Ciao, sono Letizia di Bilingue per Gioco, sono a Stoccolma in un negozio che si chiama Design Touring. Mi voglio mostrare questo bellissimo libro svedese per bambini, che trovo estremamente di design e veramente molto bello. I testi non ve li leggo perché veramente al di là delle mie capacità, ma abbiamo ovviamente il ragno, la tigre, una bellissima balena con balenottero, l'alce, l'elefante e l'arcobalena, il coccodrillo, la formica. Guardate, sono veramente stilizzate, bellissimo il pinguino, guardate che meraviglia. Mi piace da impazzire questo libro, speriamo che esista in altre lingue. Una volta, guardate che sfondo, svedese di così. e il mamma guffo, mamma acvetta, con il suo bambino al tramonto. E voilà. È un libro sugli animali selvaggi da cui pronuncia e al di là delle mie capacità e mi piace molto. E mi piace molto anche avervelo presentato direttamente da questo bel negozio di design. Ciao e grazie. Grazie.